Non vedo l'ora di fargli la sorpresa della sua vita. Stiamo parlando del più grande giocatore che c'è da tantissimi anni, che è Gigi Buffon. È il numero uno. Numero uno in porta e numero uno come personaggio. Joe è assolutamente pazzo per il calcio. La fine del tatuaggio era oltre che finito il dolore. Sono scesi le lacrime dell'emozione, ero felicissimo. Ho realizzato veramente un sogno. Per me è fuori veramente, è andato di testa, è pazzo farsi Buffon. Lui pensa che siamo qui per fare un documentario sui tatuaggi, ma non ha la più pallida idea di cosa gli sta per capitare adesso. Abbiamo un cliente speciale che si tatuerà il ritratto di Joe. Sarà per lui una bella sorpresa. Ehi Joe, vieni a vedere cosa sto facendo. No, ma non ci credo. Sono io questo. Infatti ti dicevo, chi è che è stato attuando senza capire a far vedere? No, ma fai vedere la pazzia che hai fatto? Sono infazzato, sono scioccato. Un mio familiare non ci sarebbe mai fatto un tatuaggio con la mia faccia. Questa è la numero uno. Questa è la numero uno. Che mi avevo fatto vedere? Ehi, scusa, questo si lava? Grazie.